Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo ci troviamo nel percorso che porta alla cella numero uno, un luogo centrale per la vita di Padre Pio, non solo perché era il suo luogo dove riposava, meditava, pregava, ma anche un luogo significativo perché lì sono accaduti tanti fatti della sua vita, tanti fatti, tante visioni, anche tante battaglie. Oggi qui per raccontarvi anche quello che accadde nel 1916 in questo convento perché lui era già qui a San Giovanni Rotondo e veniva dalla vicina Foggia. Che cosa scrive a Padre Agostino, il suo padre lettore, il 19 novembre del 1916? Era mortificatissimo nei confronti di Padre Agostino perché nel momento in cui Padre Agostino doveva essere qui di ritorno in provincia dalla sua licenza, siamo nel bel mezzo del primo conflitto mondiale, Padre Pio invece doveva essere a Napoli, si doveva presentare a Napoli l'8 di dicembre, chiaramente sempre per il servizio militare e lui esclama chissà dove nascerà per me il santo bambino quest'anno, chissà cosa mi sarà asserbato. Il padre provinciale mi disse quando fu qui che il bambino nascerà all'ombra del sacro recinto, voglio sperare che questa volta egli abbia fatto da profeta, ma in realtà come sappiamo non accadrà. Fu un anno veramente triste per Padre Pio, parliamo del Natale, perché lo trascorrerà in caserma. Del resto le mie condizioni di salute non sono appunto migliorate da quell'anno scorso, confido e spero in Dio. Intanto voi non cessate di insistere più che mai presso il Divin Cuore con l'umile e fervente preghiera affinché mi faccia sottomettere la sua bontà e che io lo serva con fedeltà e con sincerità. Io non ho altro desiderio che se non quello di morire o amare Dio, la morte o l'amore, già che la vita senza quest'amore è peggio della morte. Per me sarebbe più insostenibile di quella che l'è presentemente.